Lui quarantenne muscoloso in forma, lei in bianco very chic. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, anche alla sessantasesima mostra del cinema di Venezia, fanno gli eterni fidanzatini. Prima di Red Carpet chiacchierano con Marta Marzotto. La conduttrice di Verissimo non lascia mai la mano del compagno. Innamorati come il primo giorno continuano la loro storia d'amore, ma le nozze, quelle, non arrivano mai. Grazie a tutti.